Ah, Tony, ma quanto ci dobbiamo rimanere in India? Io già mi sono stufato. Ed è, per qualche giorno, anche perché poi quattro ci abbiamo il concerto beneficenza. Ma quale concerto? Il Vomit in France. Ah, c'hai ragione. Bella, Tony! Tony, mi fa un piacere, voglio prendere qualcosa da legge. Va bene, mi regge te questi. Va bene. Ah, e quale ti porto? I giornali porno o i quotidiani? Che so, i quotidiani? E quelli con le figure in bianco e nero. Se vuoi tirare anche la bella scureggio, la faccia pure, tanto qui sembra un paese libero. Ma quale scureggio? No, ma il mio telefonino. Mi sono scaricato da internet delle suonerie molto personalizzate, no? E poi quest'ultima ci sono molto affezionato, anche perché è del mio fans club, i Ruttini. La colorata, dov'è che è scaricata? Sul sito di Oxford, Cambridge o da Bocconi? Ma lei gli pare abbastanza da sgassia? Senta un po', ma lo senta un attimo. A me pare proprio calma, adesso lo fai un po'. Bravati. Ma che fa, vergogna? Ma si vergogni, maiale? Ma ci sono delle signore qui. Sono un magistrato. Aspennachietto. Ridammi il telefonino che me lo riempio. Scusi, sorella, non è colpa mia, eh. Vede, è quel signore lì che ha una suoneria volgarissima. Ti pare che questo mi ha encasenato tutto, lo sapevo io. Ma questa sera condizionata è tremenda. In gola c'è due pinguini che stanno a giocare a tirare la fune che è corte bucali. Ha delicato, lo sai che gli fai allo zono con questa bomboletta? E che gli farò mai io a sto zono? Gli fai un buco così. Eh, eh.